che a settembre riapre il corso di ballo a Villa Grande e anche a Rimini, a Riminesi quindi ci potete trovare in tutte le piazze ma soprattutto in tutti i paesi esatto, in tutta la Romagna, esatto bene, ragazzi, bocca al lupo per il vostro show Valerio e Marta Severini E le fonte! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.